Musica Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con speciali elezioni politiche 2022. Questa sera parliamo del Senato della Repubblica incontrando ancora i candidati abruzzesi nella circoscrizione che leggerà quattro senatori per Palazzo Madama, uno nel collegio uninominale e tre nell'unico collegio plurinominale abruzzese. Questa sera ospita nei nostri studi il candidato capolista di Azione Italia Viva, Camillo D'Alessandro, che recupera lo spazio che purtroppo per problemi di audio è saltato l'altra sera nei nostri studi. Io lo saluto e lo ringrazio. Buonasera, grazie a lei. Innanzitutto partirei proprio dal tema Azione Italia Viva che ieri ha svolto una propria convention, la più importante di questa campagna elettorale, salvo sorprese dell'ultima ora, con la partecipazione purtroppo soltanto virtuale di Carlo Calende alla presenza della ministra Mara Garfagna non è la prima volta in Abruzzo. Intanto io le chiedo di raccontare un po' quello che è accaduto ieri per fare il punto sulla campagna di Azione Italia Viva nella nostra regione, anche gli impegni che sono stati presi dal leader nazionale di questo terzo polo elettorale. Grazie direttore, mi avrebbe fatto piacere ripetere l'incontro-confronto che non è andato in onda per motivi tecnici come lei faceva riferimento col candidato al Senato di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, che non si è presentato e quindi a riprova del fatto che questa campagna elettorale vuole per alcuni essere una finzione, nascondersi dietro i simboli, dietro le bandiere e non accettare il confronto. Però io credo che gli abruzzesi si stanno rendendo conto che cosa c'è dietro, anche dietro un mancato confronto c'è la impossibilità di rispondere alle grandi questioni che riguardano l'Abruzzo e che dovrebbero alimentare il dibattito in Abruzzo, in modo tale che i cittadini possano formarsi un'opinione. Opinione che per esempio si sono formati ieri in occasione della convention che abbiamo fatto al porto, strapiena di cittadini, dove abbiamo avuto la possibilità di entrare nel merito del programma, della prospettiva del Paese, usare parole di verità, raccontare quello che vorremmo fare che poi si fa così in campagna elettorale. Si dovrebbe fare così nei confronti elettorali, a meno che si abbia paura del confronto. Ieri abbiamo avuto la conferma con la presenza della ministra Carfagna che siamo in onda in Abruzzo, che c'è questa speciale magia che si sta creando in queste giorni, in queste ore e nei prossimi giorni fino alla chiusura della campagna elettorale, che credo possa mostrare poi da un punto di vista elettorale delle vere e proprie novità che poi sono attese dai cittadini. C'è una grande domanda e non c'era un'offerta politica. Noi credo che stiamo riempiendo questo vuoto con la proposta, con le idee, con l'entusiasmo per la nostra regione. Il Senato, appunto, io dicevo, in Abruzzo elegge quattro rappresentanti di questa regione. Io li chiedo, ma saranno rappresentanti di questa regione? Nel senso che il sistema elettorale per il Senato è diverso da quello della Camera e probabilmente agevola, così come era nella idea di chi ha realizzato questa legge elettorale, una sorta di federalismo di quello che doveva essere il Senato delle Regioni e che poi è rimasto tale, perché nell'ultima legislatura non ci sono state modifiche costituzionali. Sì, i cittadini avranno domenica due schede, una rosa e una gialla. La rosa per la Camera, la gialla per il Senato. Approfitto per dire che chi volete votare basta mettere un simbolo sul partito che ritenete più opportuno. Spero che votiate il simbolo della lista calenda. È una legge elettorale che prevede però che al Senato ce la vediamo noi. Cioè decidono gli abruzzesi, mentre la Camera decidono in parte gli abruzzesi, in parte dipende dal voto che tutti i partiti prendono e quindi dai resti che cadono in Abruzzo. Un po' un ternallotto per chi sarà eletto o meno. Invece al Senato ce la giochiamo in Abruzzo, sulla base di ciò che decidono gli abruzzesi e sulla base delle proposte che sono in campo. E per questo è auspicabile sempre un confronto tra le parti in modo tale che i cittadini possano decidere. Io ho lanciato la mia campagna elettorale, scegli come se scegliessi il sindaco d'Abruzzo. Perché quando noi decidiamo di votare il nostro sindaco da un piccolo comune al più grande, di sicuro non votiamo chi non conosciamo. Di sicuro non votiamo chi viene per esempio da fuori regione. Invece in Abruzzo questo sta accadendo. Hanno catapultato da fuori regione candidati del Lazio, della Lombardia, delle Marche, con il risultato che la nostra rappresentanza abruzzese in Parlamento, ne eravamo 25, con la riduzione del numero dei parlamentari siamo passati a 13, se vengono eletti 4 o 5 delle altre regioni rimane 8 persone abruzzesi a rappresentarci. E io la vedo dura per far valere l'agenda Abruzzo in Parlamento. Io so che come e quando si prendono le decisioni, come e quanto è duro il confronto dentro le commissioni e dentro i ministeri. Questo attacco, questo scippo della rappresentanza democratica abruzzese è opera dei partiti prevalentemente di centrodestra, di Fratelli Italia, di Forza Italia e della Lega. Lei da parlamentare uscente, appunto restando al tema Abruzzo, ha seguito molte delle situazioni, dei dossier che investono questa regione anche in Parlamento. Quali sono le partite aperte e soprattutto come chiuderle nella prossima legislatura? Sì, ci sono solo partite aperte perché chi ha fatto cadere il governo Draghi prima del tempo, mi riferisco a Conte, Berlusconi e Salvini, non solo ha interrotto la legislatura, ha interrotto tutta una serie di azioni decisorie che stavano riguardando l'Italia e l'Abruzzo. Prima fra tutti il piano nazionale di ripresa e resilienza, conosciuto come PNRR. Lì ci sono fondi straordinari per la nostra regione, così come ci sono nella pancia della regione Abruzzo, lo avrei detto a Sospiri se fosse venuto, risorse mai spese. Lui è uno di quei responsabili, insieme a Marsiglio, per esempio della mancata messa a terra di risorse del Master Plan. Lei deve sapere che noi avevamo fatto con il governo Renzi un piano straordinario di investimenti sull'Abruzzo, 1 miliardo e 600 milioni a cui si aggiungevano circa 400 milioni di fondi CIP, insomma 2 miliardi di dotazione nei tre anni del governo Renzi per l'Abruzzo. Bene, quei soldi sono rimasti nella pancia della regione, parcellizzati e non arrivano a terra. Mi riferisco, per fare esempi più clamorosi, ai 50 milioni del bacino idrico del Fucino, per servire l'agricoltura delle condotte del sistema irriguo necessario a fare agricoltura. Mi riferisco ai circa 20 milioni del bacino sciistico Passo Lanciano Maelletta, tutti cancellati. Mi riferisco ai 35, anzi 37 milioni di euro del porto di Ortona, fondi destinati al porto di Ortona, cancellati da Marsiglio, dispersi in mille rivoli. Siamo dovuti intervenire noi col PNRR da un lato e con i fondi destinati alla zona economica speciale dall'altro per ripristinare alcuni di questi fondi. Con la caduta del governo chiaramente tutte queste partite sono aperte. Io mi chiedo, i parlamentari che vengono dalla Lombardia, dalle Marche e dal Lazio, esattamente cosa sanno di queste partite? Il tema più caldo di queste ultime ore è il collocamento internazionale del Paese all'indomani del 25 settembre. Lei è preoccupato che possano cambiare gli attuali equilibri e anche le attuali alleanze dell'Italia, sia dal punto di vista della difesa, mi riferisco alla Nato, sia dal punto di vista degli impegni presi, anche dalla stessa lealtà all'Unione Europea? Beh, è evidente che il problema esiste ed è serio e sembra una cosa distante che non ci riguardi, quasi come se fosse un dibattito politico, invece la lealtà all'Europa, per esempio, di conseguenza ha degli effetti. Cioè, se tu sei credibile, autorevole, leale in Europa, l'Europa è leale con te. Se non lo sei, l'Europa giustamente fa gli interessi dello spazio europeo che va oltre l'Italia. Noi abbiamo preso a prestito, e non solo, a finanziamento a fondo perduto, soldi mai visti, risorse mai viste sul PNRR, se tu a quel punto vai a rompere quell'equilibrio, quei soldi ti chiederanno conto e ti chiameranno in causa se sei capace di fare le cose che, per esempio, eri in grado di fare Draghi. La deriva di Salvini e Meloni è questo rischio. Non a caso Berlusconi, cercando di frenare questa deriva pochi giorni fa, ha detto noi usciremmo dalla maggioranza se la maggioranza nuova che si andrà a formare laddove vincesse l'elezione dovesse rompere con l'Europa. Il rischio ce lo dicono anche loro all'interno. Ancora più grave è l'alleanza atlantica, che tutti guardano l'Italia mica troppo dell'America. Ma non è questo, cioè qua non si tratta di essere amici. Qui si tratta di essere autonomi dentro un'alleanza internazionale che ci difende e ci protegge nel caso di attacchi. Oggi l'Ucraina è sola ed è alla solidarietà dei paesi perché non fa parte dell'alleanza atlantica. Ma se dovesse succedere a noi, proprio l'alleanza atlantica impone a tutti i paesi di venirti a difendere. Questa è l'alleanza atlantica, per cui sia i paesi facenti parte sono fedeli all'Italia, noi dobbiamo essere leali e fedeli con i paesi dell'alleanza atlantica. E l'alleanza atlantica consente anche di favorire politiche comuni che servono anche all'Italia, per esempio sul fronte energetico. Ecco, per esempio sul fronte energetico, però pare che tra gli alleati non ci sia grande calore rispetto all'idea di fissare il tetto al prezzo del gas come proposto dal governo italiano. Lei teme che l'Europa possa fallire da questo punto di vista e che si debba andare, come dice qualcuno, anche alla ricerca di soluzioni nazionali a una crisi che è sempre più impellente, che riguarda le imprese e le famiglie. Sì, lo temo, ma credo che in Europa le partite si vincono se c'è un governo capace e autorevole di riuscire a vincere delle battaglie che vede interessi di altre nazioni contrapposte. In questo caso, proprio questo è un esempio, dove non è che ci serve meno Europa ci serve più Europa, perché se ci fosse un'Europa federata probabilmente gli Stati Uniti di Europa avremmo politiche comuni sulla difesa politiche comuni sull'energia, politiche comuni sulla politica estera invece, pur facendo parte dell'Europa, i paesi tendono ad un proprio egoismo nazionale a volte gli va bene, a volte gli va male gli egoisti nazionali sono gli amici alla Orban della Meloni giusto per fare qualche esempio però l'Italia non è Orban, Draghi è molto più ascoltato il punto è che non dobbiamo avere un Orban al femminile o al maschile in Italia perché altrimenti rimaniamo isolati come è isolato Orban a livello dell'Europa giusto per fare un esempio ovviamente la battaglia a livello europeo non esclude il lavoro che tu devi fare in Italia per quanto riguarda il prezzo dell'energia e qui dobbiamo dirci francamente, con franchezza, con i cittadini due sono le cose se non hai l'energia la compri e quando la compri trovi il padrone la speculazione a cui stiamo assistendo oppure la produci e se la devi produrre devi cominciare a dire dei sì il sì al rigassificatore che ci consente di far arrivare e non essere dipendente dalle fonti energetiche russe il sì alla TAP vi ricordate hanno detto di tutto che avremmo ammazzato gli ulivi della Puglia e il turismo della Puglia invece sta accadendo che grazie a quel tubo messo dal governo Renzi adesso sta arrivando stiamo evitando il collasso del sistema paese proprio grazie alla TAP che i grillini avevano così avversato devi fare il fotovoltaico devi fare le fonti energetiche ma dobbiamo stabilire che i pannelli in una parte vanno messi non è che non si può mettere ovunque così come le paleoliche non è che non si può mettere ovunque allora ci vuole un mix energetico un pezzo di questo mix energetico dipende dal fatto che devi produrre tu in Italia una parte della produzione nazionale che serve a famiglie e imprese sì ma nel nuovo governo nella nuova legislatura servono provvedimenti ancora più rapidi per esempio Salvini propone lo scostamento di bilancio 30 miliardi per aiutare immediatamente le imprese e le famiglie lo scostamento di bilancio per essere compresi meglio è lo strumento attraverso il quale un governo che non ha i soldi per far fronte a un'emergenza cioè va oltre i soldi che ha in bilancio cioè si scosta rispetto alle risorse che ha cioè si indebita va bene indebitarsi per salvare famiglie e imprese il costo energetico? sì, facciamo lo scostamento urgente di bilancio ma se lo fai per l'energia non lo puoi fare per le altre mille cose che Salvini e Namiloni propongono è come in una casa, è come una famiglia se tu c'è un'emergenza fai un mutuo, fai un debito per risolvere quell'emergenza ma non è che puoi fare un altro mutuo, un altro debito per altro devi scegliere che cosa viene prima oggi viene prima mettere in salvezza i bilanci delle famiglie e delle imprese di questo si tratta e allora sono tutte proposte quelle della Lega, di Salvini, di parte dei 5 Stelle e anche del PD in qualche aspetto che prevedono di avere centinaia di miliardi di risorse per fare tutto quello che vogliono hanno calcolato il programma del centro-destra costerebbe circa 150 miliardi senza un euro di copertura allora mettiamoci d'accordo o tu questi soldi in parte li uti per un'emergenza giusta e ci siamo lo facciamo lo potevamo fare già in questa legislatura anche con un governo diciamo in sospensione come aveva proposto Calenda fermiamoci in campagna elettorale andiamo in Parlamento e variamo una cosa del genere ma se tu fai questo sforamento devi sapere che non c'è la possibilità di fare altri sforamenti e se tu prometti l'uno e l'altro stai prendendo in giro gli italiani e gli abruzzesi Alessandro, lei ha così come a livello nazionale la campagna di azione Italia Viva ha evocato più volte le misure prese da Draghi l'autorevolezza di Mario Draghi in Europa e nel mondo a livello internazionale però lo stesso Draghi un paio di giorni fa ha detto chiaramente che non è disponibile a nuove avventure al governo è un problema per la vostra comunicazione elettorale questo? No, è la conferma della serietà dell'uomo di Stato quello è Mario Draghi immaginatevi che avesse detto il contrario che Mario Draghi avesse detto sì sono disponibile sarebbe entrato in gamba tesa in una campagna elettorale è un uomo di Stato non di parte che si mette a disposizione innanzitutto si è chiamato non da Salvini dalla Melone o da Camillo D'Alessandro ma si è chiamato dal Presidente della Repubblica funziona così la vita istituzionale ed è giusto ed è sinonimo di serietà che lui si sia tirato fuori però che succede il 26? se destra e sinistra non vincono e questa è la mia domanda conseguente ah ok ok prego prego no no che succede il 26 se destra e sinistra non vincono? chi vanno a richiamare? chi è che può rimettere insieme una maggioranza larga che almeno deve fare le cose di cui stiamo parlando completare il PNRR mettere in sicurezza famiglie e imprese sui costi di energia chi lo deve fare? io credo che a quel punto non saremmo solo noi a chiedere a Draghi di ritornare a guida dei proprietari ma saranno altri se invece dovessero vincere gli altri passeremo da Draghi alla Meloni o da Draghi a Frattoiani straordinari però in queste ultime ore c'è un altro tema che dovete fronteggiare almeno dal punto di vista della comunicazione agli elettori appunto in circostanze come è quella di oggi di questa trasmissione cioè spiegare perché il voto soprattutto nel momento in cui c'è questa situazione dei non ci sono più sondaggi ma si parla appunto di questi collegi uninominali decisivi per far pendere il risultato dal lato del centro-destra o del centro-sinistra appunto possa essere utile il voto ad azione Italia Viva è l'unico modo per non far vincere coloro i quali sono secondo i sondaggi destinati a vincere e cioè il centro-destra ogni voto che noi incrociamo è un parlamentare di meno è un senatore di meno per quanto riguarda il centro-destra perché la legge elettorale il punto è questo la risposta è un po' tecnica ma la legge elettorale si fonda non sull'attribuzione solo diretta dei collegi uninominali ma si fonda di un'altra parte dei collegi dei parlamentari che veniamo eletto sulla quota proporzionale bene cioè in proporzione ognuno di noi avrà una quota di parlamentari più cresciamo noi più si riducono le coalizioni e si riduce il centro-destra significa incidere profondamente nell'equilibrio del prossimo Parlamento e se noi incideremo e dovessimo riuscire ad incidere profondamente nell'equilibrio destra-sinistra lei l'ha definita centro-destra centro-sinistra a me fa piacere definirla destra-sinistra perché a sinistra non c'è più nulla di centro a destra c'è l'evanescenza di Forza Italia del resto basta vedere anche in Abruzzo candidano ex gente di alleanza nazionale movimento sociale cioè ormai non c'è più l'evoluzione invece noi incrociamo sia gente che proviene dal centro-destra anche dall'alleanza nazionale sia gente che viene dal centro-sinistra che vedono come l'unica speranza di mettere un'argine ai populismi e agli estremismi in Italia e in Europa e nel mondo nella terza via il numero degli indecisi è comunque ancora alto non abbiamo i sondaggi sotto mano voi li avete insomma avete anche le vostre sensazioni c'è una speranza per voi di riuscire a portarli alle urne c'è un'argomentazione importante che possa essere però davvero incisiva in queste ultime ore che ci separano da un turno elettorale che potrebbe essere quello con la più bassa affluenza e non sarebbe per il paese davvero un bel biglietto da visita a prescindere da chi vinca e da chi perda sì io non ho i numeri precisi però la sensazione è che ci sia un'alta quota di popolazione che non ancora decide se va a votare non ancora decide chi votare messi insieme non so a chi votare penso di non andare a votare ammonta diciamo una porzione di popolazione molto alta che va oltre il 40% allora perché i cittadini dovrebbero andare a votare perché coloro i quali non sanno a chi votare o hanno deciso proprio no questa volta non ci vado dovrebbero decidere di andare a votare la sua domanda è estremamente importante e proprio per questo sarebbe stato bello fare un confronto per esempio io credo che in Abruzzo c'è un motivo tutto regionale perché riguarda la nostra vita riguarda l'Abruzzo l'ho detto prima o i cittadini abruzzesi accettano passivamente che la nostra regione elegga due della Lombardia due del Lazio e una delle Marche portando gli abruzzesi a essere solo otto quando ne eravamo venticinque in Parlamento oppure reagiscono e dicono ora basta basta con i giochi di partito basta con le segreterie votiamo abruzzesi io sono uno di quelli che è conosciuto in Abruzzo in ragione della faccia che ci ho messo del lavoro che ci ho messo voglio invitare i cittadini a fare una riflessione avete visto i cartelloni dove affiggono i manifesti il direttore lei l'avrà visto bene fateci attenzione il Partito Democratico mette solo il simbolo del partito il Movimento 5 Stelle mette solo la faccia di Conte Fratelli d'Italia mette solo la faccia della Presidente Meloni non mettono i candidati locali un po' non li possono mettere perché sono di fuori regione e svelerebbero l'inganno gli altri non li possono mettere perché il centro-destra ad esempio candida sei del Consiglio regionale dell'attuale maggioranza a partire dal Presidente del Consiglio regionale che non vuole fare i confronti e che non vogliono rendere conto del lavoro che hanno fatto in Regione sono gli stessi che insieme a Marsiglio solo qualche anno fa promettevano la rivoluzione della sanità la rivoluzione dei trasporti grandi investimenti cittadini lo sanno che non è così se capissero che dietro quei simboli ci sono loro non li voterebbero allora c'è un motivo in più ed ecco ritorno alla mia campagna elettorale scegli il sindaco di Abruzzo vota chi conosce anche anche diciamo io lo so che chi mi sta ascoltando ha un giudizio positivo molto positivo poco positivo negativo molto negativo però stiamo qui e ci mettiamo la faccia non scappiamo dai confronti ci mettiamo nei manifesti e gli altri gli altri che cosa stanno facendo dopo è troppo tardi per le partite che riguardano Abruzzo andare con 6, 7, 8 deputati abruzzesi tra Camera e Senato significa neanche essere presente in tutte le commissioni come Abruzzo necessario a difendere gli interessi degli abruzzesi bene grazie a Camillo D'Alessandro grazie ai nostri telespettatori torneremo nei nuovi spazi a occuparci delle elezioni politiche 2022 di domenica prossima sia per quanto riguarda il Senato che per la Camera dei Deputati buon proseguimento grazie a tutti